Buonasera amici di Asi Sportivo, benvenuti dal Palasport di Vieste dove si è appena concluso lo scontro fra Sunshine, Vieste e Basket Monopoli. Siamo qui col coach del Monopoli, buonasera mister, una partita difficile, intensa, a metà del terzo quarto eravate anche sotto di un punto, però cos'è mancato alla fine per portare a casa questi due punti? Ci è mancato un po' di cinismo, abbiamo giocato una partita con otto giocatori perché Gentile e Marco nella partita dall'inizio si è fatto male, quindi aveva una rotazione in meno sugli esterni e quindi arrivare poi a giocartela punto a punto, dover ogni volta recuperare porta via tante energie mentali. Ci è mancato quel pizzico di cinismo per poter mettere il naso avanti che chissà in uno sport di situazioni come la Palacanestro può anche portare buoni frutti e di là la partita anche sotto le nostre possibilità. Però Vieste è una squadra forte, lo sapevamo, tutto sommato perdere di 9 e segnare 61 punti non è andata malissimo. No, no, infatti, è una partita giocata anche dai lunghi per quanto riguarda pace Giuseppe, una buona prestazione da parte sua, alcuni falli sotto forse possono avere minimamente penalizzato la partita. No, per il tanto, un ottimo arbitraggio, veramente un ottimo arbitraggio, due ragazzi arbitri sono stati bravissimi. No, Giuseppe ha fatto una partita intensa, era quello che gli avevo chiesto all'inizio, io sono lo spogliatore prima della partita e gli avevo chiesto di attaccare molto Mosley, di mettere in difficoltà sia il 4 che il 5 che si alternavano, un po' Mosley, un po' L'Auriola che ha giocato, soprattutto il capitano del Vieste, Monacis, quindi ha letto bene le situazioni e ha fatto veramente una buona partita. Qualcosa in più la possiamo ancora fare, ci dobbiamo lavorare. Obiettivi futuri? No, no, obiettivi non ne ho perché rallentano il pensiero e creano troppe aspettative, sicuramente ora questa pausa ci serve per ristabilizzare il corpo, un po' lo spirito, perché siamo arrivati, dopo aver fatto una buona preparazione fisica, ora senza forze dobbiamo riprenderci. Ok, grazie mister per la disponibilità e in bocca al lupo. Adesso abbiamo il piacere di parlare con il coach del Sunshine Vieste, Francesco De Santis. Mister, partita intensa, avete vinto, però ho notato che comunque non appena era in calo l'attenzione, il Monopoly era subito l'inaguato per raggiungervi. Sì, abbiamo vinto, comunque sapevamo della forza del nostro avversario di oggi, infatti ci stanno dietro, ci tallonano a due punti, adesso quattro. Sapevamo con chi andavamo a giocare e sapevamo che ogni volta che abbiamo abbassato la guardia avremmo potuto essere recuperati. E così è stato, infatti, per diversi momenti della partita. Meno male che alla fine l'abbiamo spuntato. Partita vinta a fasi alterne sia dai piccoli che dai lunghi, quindi questo sarà sottolineare anche comunque un ottimo gioco. Sì, abbiamo la possibilità di sfruttare diverse posizioni nel campo, perché comunque abbiamo dei lunghi, oggi ne abbiamo portati uno in più, sapendo della mole offensiva sotto canestro degli avversari. E abbiamo diverse soluzioni, appunto, siamo riusciti a sfruttarle in diversi momenti della partita, non con continuità, però quando ci siamo riusciti abbiamo trovato la via del canestro da diverse posizioni. Nonostante le strette marcature nei confronti di Mosley, comunque è riuscito a fare una buona prestazione. Sì, Nicola, Snick, Mosley, per le sue qualità atletiche, è veramente, penso, uno dei lunghi più forze, non forse il lungo più forte della categoria. Oggi non ha brillato, forse come sempre, però è sotto canestro quando riusciamo a servirlo, perché la difficoltà è più riuscirlo a servirlo, quando riusciamo a servirlo abbiamo un'arma vincente, una carta in più. Ok, grazie mister e in bocca al lupo per le prossime partite. Ora siamo con Michele Lauriolla, Michele è una partita vinta, non comunque in maniera molto semplice, perché comunque gli avversari erano sempre lì in aguato a cogliere subito magari un piccolo calo di attenzione da parte vostra. È stata una partita dura, sapevamo che oggi avremmo avuto un sacco di difficoltà, infatti si è dimostrato così. Non abbiamo avuto modo di andare con un massimo vantaggio, perché loro ci stavano sempre le calcani, infatti sono stati molto bravi e complimenti anche alla squadra avversaria. Nonostante non abbia brillato, magari come altre volte Mosley comunque ha preso parecchi rimbalzi difensivi, ha rubato palle, quindi comunque è una buona partita. Tutto sommato sì, alla fine è da una grossa mano, i rimbalzi sia in attacco che in difesa ci aiutano molto, poi comunque penso che anche ha contribuito con un sacco di punti, quindi direi che per stasera la prestazione di Mosley è più che positiva. Può fare di più, poteva fare di più, però tutto sommato ci accontentiamo anche di questo. Si è tenuta anche comunque un organico abbastanza compatto, una squadra molto unita? Noi abbiamo dalla nostra il fatto che 7-8 decimi siamo ragazzi del posto e comunque giochiamo da tanti anni insieme, quindi con l'innesto dei due ragazzi americani di Raffaele Ciccone, il quale comunque lo conosciamo da anni, è stato diciamo più facile trovare l'affiatamento giusto che per adesso ci sta permettendo di toglierci alcune belle soddisfazioni. Ok, grazie per la collaborazione e in bocca al lupo per la prossima partita. Adesso abbiamo il piacere di parlare con Giuseppe Pace, Giuseppe nonostante la tua buona prestazione, comunque parecchi rimbalzi presi sia in difesa che in attacco, un paio di triple messe a segno all'esperienza, però questo comunque non è bastato, portare a casa i due punti. Questo succede soprattutto quando si ha una squadra giovane che sta continuando a imparare a giocare insieme, quindi quello che noi facciamo è che entriamo in campo e cerchiamo di fare esperienza partita dopo partita, il nostro obiettivo è quello di arrivare ai play-off con un insieme di squadra che giochi nella maniera opportuna e adeguata. Stiamo facendo semplicemente esperienza, contro abbiamo trovato un grande avversario, quindi comunque era difficile fare la partita come di solito siamo abituati con le altre squadre, però noi ce l'abbiamo messa tutta per cercare di portare a casa i risultati. Beh sì, si è visto anche nel terzo quarto, si è stati di sotto anche di un punto, però poi forse è calata un po' la concentrazione che non vi ha fatto fare quel salto di qualità? Beh io sostengo, ritengo più che altro, più che la concentrazione sono stati bravi quelli dell'altra squadra, per il semplice motivo che ci hanno messo molto più grinta, hanno avuto un picco proprio all'inizio del quarto quarto, da un atteggiamento difensivo un po' più passivo cercando di sfidarci al tiro, ma sono passati all'aggressività, quindi questo ci ha un po' spiazzato perché è stato da un momento all'altro, sono stati molto aggressivi sia in difesa che in attacco e quel parziale di 6-0 poi ha deciso la partita alla fine. Ok, grazie mille Giuseppe per la disponibilità e in bocca al lupo per le prossime partite. Dal Palasporti Vieste è tutto, Lattarova Luciano, Giuseppe Pignataro al montaggio e alle riprese, un saluto dall'assistit sportivo.